Anch'io Senti facciamo una gara normale Perché io voglio volare col motorino Dai per favore mettilo a gara No dai ti prego E' bellissimo la caravolta di me Una volta che stavo su Libertissi di giocavo ogni volta Porco zio Ancora mi funziona Libertissi di quello la cacciavo io Mi non posso scudere mai perché c'è l'indificio attaccato nel cerchio del cd Eh certo di 60 anni fa Ci sono ancora i trucchi dentro la cossa come si chiama Dentro la custodia Sta arrivando ora si intappa Pum Poi praticamente quando sono stato a Torino l'ho trovato Ho trovato una cosa che lì c'era Mi ha detto mio papà che l'ha trovato uno scatolo con il cd Quello che si ascoltava con il cd Quello che si ascoltava una volta Io lo volevo comprare ma poi l'ha trovato mio papà l'ha trovata Con lo scatolo Quello con il cd con le batterie con tutte cose La Torino Lo trovo tutto Anzi è buono perché io poi se poi riparto Mi prendo il cd Me lo scotto fuori là A viaggio Potto il cellulare soltanto No lo so però siccome nell'aereo Si deve mettere in modalità aereo Quindi No ma i spotify non ce l'ho Ce l'ho craccato Non ho messo mio fratello Capito? Ce l'ho craccato Sia sul computer sia sulla play Ebbè sulla play sulla cellulare Alessandro non mi ha risposto Vabbè tanto eravamo fatti uscire sicuramente Che vuole molte Ehm A me sta parlando con Con le molte Bella sta musico Tipo tron Madonna mia chi era sembra chi volesse il milionario la musica ha disposto definitiva l'accendiamo no mi devo rivedere tron mi devo rivedere a questi soggiorare ma ci sono un sacco di ragazze fuori un sacco di ragazzi ma c'è il bordello ragazzi onestamente secondo voi ci fanno entrare c'è un bordello proprio un bordello no no c'è il bordello di ragazze per i grandi ragazzi o ma mi sono reso basta non mi interessa più non ne voglio più ragazza non voglio più perché è praticamente era morto basta ma non ci rispondo più no ma non ci rispondo 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 vabbè gabriele è infibminato che vuoi infibminato infatti mi lo dici è un genio proprio che vuoi se io non sto giocando voglio ma tutto a posto ogni volta che faccio sta pallina questo qua poppy lui si viene sempre nella mia stanza che ignazio si ignazio il cagnolino il mio cane orlando si chi lo conosco le sagre saggio senti devi vedere vedere su mi pare su youtube non lo so guarda qualche parte c'erano i vecchi video quello di tipi riguardi no ma sicuramente un ignazio vabbè quello l'anno non lo ricordavo io però c'ho salvato inizio stai sculacciando gabriele retro una volta c'aveva tik tok ma solo un video se lo segui vabbè se lo segui si chiama ignazio de veronica de maria così a tutti questi nomi veronica veronica è sua la sua tipa la sua be friends poi vado a festeggiare a torino lo sai bello bello a mio zio poi voglio andare a roma qualche volta mi ha detto mia mamma ma non sono sicuro che me perché io penso sempre di no però non so se è vero perché mio mamma dice forse mia nonna mia nonna tra mio non mio mamma lo so apparenti a new york ma non so se è vero però non so se è vero perché sai perché perché praticamente siccome ho pensato sta cosa in new york siccome mi sono visto tutto il tempo ma penso l'aereo allora ho detto ma dove è new york vabbè lo so se è vero così sembra la sola ma fortnite poi caricate ormai sono diventato un bambino con sto forte ma mi piace un sacco ti scioppo sembra ogni volta invece sciopare va no ancora ma quante cose ci sono io voglio fare le corse con la macchina e con il motorino senti ti faccio vincere va bene però facciamola la corsa a me mi faccio le volo mi chiamate giusto giusto e le bastardate si vola dai uvola dai uvola ucidimi 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 Grazie a tutti. 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 Noi. Grazie a tutti. 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 da... a tutti. 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 a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. mi provo. no. tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. con perché non vuole che sta con me secondo me si dissociano vito insomma ci dissocio secondo me io per dirle per giocare fa minchia domani devo fare devo fare una foto devo fare di nuovo la foto viandante sul mare della vidania quando ci metti le storie pepe ci fu due coppo non ci fu non ci fu tu coppo anche in attimo dice si femminaro e che devo fare la mia vita sto facendo cifo cifo a grascia vero la luce la luce è tutto si è staccato vero sovraccarico di corrente ci fu o non ci fu pepe non ci risponde il signor romano non ci risponde tra se fa tanto a casa mia sto arrivando sto guardando ci siete Sì, mamma mia Ma dove sei? Ma forse già ce l'ho la Sprite Ma io voglio un motorino voglio Aspetta un attimo Prendo il motorino Cosa è questo? Cosa fa? Perché mi hai cacciato? Ah vabbè voglio prendere Eh io voglio prendere il motorino Fermo no mi picchiare Come si chiama il motorino? Nero custom come si chiama? Motorino Sultano vabbè Vortex Dux Dux? Vabbè le scelgo una a casa Vediamo se becco un motorino No 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 Non voglio fare qua Io voglio giocare qua GTA Tià Asp'è live c'è la luce? attenti attenti c'è la luce? non mi piace allora motore non ti devo dire cabriolette parolamus dammi 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 ehi ti do un po' fermo fermo porca miseria lo so fare questo qua anch'io però lasciami stare sì sì eeeh 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 qua è un problema mare ti chiedi per alcuni ruoli? sono johnny on the spot ti prenderò eeeh 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 chilo chilo melo eeeh 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 io io sono a forza zonkudo praticamente 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 sono a forza zonkudo ma ma qua sta ballando la cosa lo vedi guarda giuliano si stai facendo scoprire le cose guarda lo vedi lo vedi fa volare questo guarda si poi mi fa esplodere lo so io vabbè poi quando mi sto qua voglio andare in un montaggio voglio andare eeeh eeeh la banda sciata di minne ci vanno se come se come se come se come se come se come chi chi siamo a come non vediamo i soliti si vanno eeeh solo noi domani è granita e du domani è granata stiamo bene le forze ma fedeli quel garazzo non penso troppo ma infatti poi puoi venire qua giuliano da me ok se me lo dici mi fermavo no no scusa oh ma direi tutto pancata stavano andando a prendermi la morte bella 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 ma giuliano non è piaciuta come è nel suo come aspetta non è non è non è oggi ho proprio tanto catarro in col devi sputare come fa Michele devi sputare come fa Michele devi fare come fa così devi fare così devi fare Michele fa così e lui è come cowboy come cowboy pistolerone dai casco no perché c'è questo eh si si no ma da fuck mi sto uccidendo dai dai fanno 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 ci hai fatto così un tasto soltanto perché era appunto aspetta ha dovuto farmi un orecchio sinistro ecco c'è la tv che è scassata con tutte le cose che ci sono ragazzi sto arrivando Gabrioletto io quando gioco quando io gioco mi metto la casa sparata al massimo mi piace un casino ma perché mi sono un po' no io sono un po' Sì, a me piace troppo il titolo, però anche i foto non è... Sto troppo vicino, non credi quella persona... Sì, a me piace troppo... Sì, a me piace troppo vicino e mi uccide... Grazie, a un mio amico ce l'ho fatta... Ah, la vita adesso... Bossa, stacca, stacca! Sto tacciando! Sì, a me piace troppo... Sì, a me piace troppo... Sì, a me piace troppo... C'è uno capirlo... È il controllo... Ma sai che la puoi togliere la vibrazione, te lo dico io? Ah, ok... Non si come... Come abbiamo capito, eh? Bastardato! Basta, 18 tesi, mi passa... È il mio compleanno! È il mio compleanno! È bellissimo! Ah, si! Ah! Ci ha invitato? Gi- Gi... Gi- Gi- Giuliano! Giuliano! che a voi sta pensando Giuliano è il mio compagnolo è bellissimo ma Samuele l'ha invitato non so che un compagno di casa eh per forza di cose l'ha invitato Samuele al mio sedicettimo non è venuto 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 come non c'è vita Samuele è la mia corsa Giuliano ma dove? al suo sedicettimo no allora no ragazzi praticamente c'è stato questo insomma praticamente 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 no sì insomma è successo che c'è sti inviti sì ma falso non sono arrivato 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 ha festeggiato 19 anni perché non mi risponde Giulio sei mutato o mi senti? fermo fermo ok no non ti sento la sto chiamando ti stai fermo sei di paternò quindi sei di paternò scusa no scusa come si fa? un attimo ah quindi scusa sei di paternò? uscito dal corrente ma dove siete? sempre nella mappa siete? un attimo un attimo devo cercare una mappa devo aprire una mappa un secondo però state lì va bene? sto confondendo un po' con la mappa vediamo dove siete dove sono il giocatorio dove siete nel giocatorio? aspetta perché non vi vedo ah perché non c'è il ceo io non sono nel ceo mi sembra quando me non vi sto trovando siete troppo lontani? andiamo a tre dieci minuti ahhh questa casa? si devo fare qualcosa? forse non vi vedo perché non sono nel vostro cielo non vi vedo che dobbiamo fare qualcosa io vorgo non vi vedo c'è un puntino qua un attimo devo vedere cosa c'è qua boh aspetta questa parte devo vedere qua c'è un puntino blu ma dove ce l'ho quella me la devo cercare c'erano tutte le garage fermi fermi devo non lo trovo devo andare senti non lo sto trovando devo andare al garage oh 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 aspetta che c'ho la mese vengola come si chiama la dobbiamo andare qui Dobbè dobbè come sempre dobbè Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info portami dalla mia moto ah qua è lo trovate io la moto aspetta che la devo ma chi è che ce l'hanno con te eccola eccola ce l'ho ce l'ho e ce l'ho il motorino ce l'ho sto guidando con motorino come devo fare qua che c'è una linea azzurina qua arancione come faccio a toglierla 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 signor lentini apra citofano tirus in una cloaca vabbè non mi fa entrare faccio cerchio faccio cerchio perché mi ha fatto uscire nooo ho sbagliato stai cacciato tutti perché spunto tutto rosso che cacciato che cacciato che cacciato ma c'è cacciato ma c'è manci di merda voglio fumare un bambino pronto che cacciato un'altra danza? sembra la casa della luce bello sa di voi sa di voi non lo so 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 oddio mara di messina La mia voce No, cioè, è come la mia sorella Da tre minuti Dove devo andare di là Dove devo andare di là Almeno, mi auguri Auguri? Guarda Sto vedendo un dito Un dito giallo Guarda Mi ha detto Braccio enorme, pieno di peli Nel mio schermo Proprio Mamma mia Tutto lo schermo Tutto lo schermo C'è solo un braccio Che c'è là sopra? No Mi dissocio Ma Ma perché i capelli rossi? Vai, io mi voglio infilare dentro la doccia Voglio farmi una doccia Però ci incastriamo Proprio tutto schifoso Il lavandino Non lo pulisce mai Il lavandino Aiuto C'è uno nella porta Si impiegato Diciamo Ma non funziona È rotto È rotto, devi pagare bollette Secondo me Non funziona Ma è la doccia per antichi Proprio Guarda l'acqua calda Quello là per gli anziani Bello Bellissimo È ingollato Tu secondo me è solo questa casa Hai solo questa casa Che gay C'è solo Ah ok, da bacchare. chi è andato all'appartamento? è finita Carusi vuol dire gravi? che cazzo è un dopo? che cos'è? sembra la bomba che si esplode che cazzo è successo? vuole uscire da casa sola che riesce a esplodere tutto porca madonna io stai dando cose, ah, grovi